Cari Adriotti, vedo sempre nel mio cuore, ma sono sempre felice, mi sentivo bene? Manco mai! Ma cos'è questa roba? Ma cos'è questa roba? Ha segna in piazza Camillo Penso, Conte di Cavour o segna a Trafalgar Square? No perché chi c'è? Ha verso il giornale, ha scritto che la regina di Adrià è in televisione. Ha verso la televisione, ha vedo la regina di Adrià che è in giornale. Ma questa regina di Adrià, ha preso il giornale, io sono più buoni di tenere la ferma. E vai qua, 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 vai qua. Parigi, Roma, New York, Tokyo, Barcellona. Mi ho detto, ma che mi sia perso qualcosa? Perché sa, manco da un anno ad Adrià, era signora. Ma in Adrià, che mi ha una democrazia o che mi ha una monarchia? No, la mia regina è, che mi ha un consiglio comunale o che mi ha la Camera del Lord? Che mi ha un sindaco o che mi ha un baronetto? No perché ne vorrei, sa domani passato domani, cavallo fuori per strada, è barbierato che gira quella bombetta. E il verso della porta al comune, qua, ciao l'inglese. E il vado a ricordare, gli dice, Excuse me, e vorrei un drink e un sandwich. Giorgio ricordare, gli dice, vabbè, 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 scettava di metri. E scettava di metri, che qua vendemmo il suo ombre e voi antini, e va a fare di pieno stare a profanare i luoghi sacri degli Adriotti. Comunque, ragazzi, in questi, anche Maggi. Adesso ho visto, vuol dire, se fin posare a trascena per stare più comodo, Dio ti manda del ben Maggi. Allora, comunque, Adria, lei da bomba il sa agli onori della cronaca in questi giorni, ah?